Allora, abbiamo un ultimo quarto d'ora, abbiamo questa franchigia, ci concediamo, no? Ok. C'è qualche domanda? A parte adesso quelle che, se adesso non arriva subito, ce n'è qualcuna comunque già qui in canna che mi sto appuntando per pescare un po' da questa sorta di pozzo. Ecco, ce n'è una lì. Hai il microfono? Scusate, il microfono a lui? No, serve per poterti ascoltare. Nel frattempo, ora che arrivo al microfono perché qui è, c'era un riferimento appunto sul filtro, nessuno sta filtrando nulla, è random questa cloud, è un applicativo che si aggancia a Twitter e gira in questa animazione flash. Questo perché sia chiaro. Abbiamo solo aggiunto l'hashtag in più, urbexp, per creare qualcosa più pertinente all'ultima sessione, non porti asciapresso le discussioni di questa mattina, anche se ne gira qualcuna delle ultime due ore legate al panel sull'editoria. Sembra uno slogan, furto di identità in Italia, uno su quattro non lo sa ma tre su quattro già gli hanno rubato la propria identità, se fossi prete gli hanno rubato l'anima, siccome non lo sono, però privacy, democrazia e quindi spazio di libertà individuale è grande fratello perché la geolocalizzazione sarà una cosa che mi toglierà tutte le mie libertà individuali. Questo però non è un gioco, può essere un grande rischio, non solo, tutti ne parlano, compreso la NASA, flert solari, Einstein diceva che dopo la terza guerra mondiale la quarta guerra l'avremmo fatta con la clava, so che gli psichiatri in America hanno studiato il fenomeno da blackout e da cellulare, la gente diventa esterica, per un'ora diventano matti. La dipendenza dall'informatica, cioè sono tutte cose che l'uomo sopravviva a se stesso se usa il cervello, se usa il chip farà chip chip alla fine, io spero che su questa è una piccola provocazione, però riflettiamo perché è un bel giocattolo, ma il complesso di Peter Pan ci mantiene giovani, ma attenzione perché ci può anche uccidere, è un paradosso però è così, io vorrei che fosse un attimo di riflessione perché troppa tecnologia ci aiuta o ci porta indietro? Si può regredire, questa è una domanda che riguarda anche la geolocalizzazione, l'hai fatto intendere, per l'idea di essere tracciati, scusate, raccogliamo questa domanda, raccogliamo qualcun'altra e poi organizziamo un po' di risposte alle domande. C'è qualche altra domanda? Vediamo se c'è qualche altra domanda, poi rispondiamo e ti passerò la parola, voglio prima raccogliere se c'è qualche altra domanda e poi vediamo di organizzare un po' le risposte perché abbiamo poco tempo. Ok, in frattempo Michele che ha... No, ma era brevissimo, la prossima volta facciamo il forum analogico, così sei a posto anche tu, il forum digitale siamo qui proprio per quello, anche noi che ci bruciamo il cervello con i telefonini che le radiazioni solari ci scottano, in Australia sono tutti bruciati, però il punto è, proprio che non ne puoi fare a meno perché il concetto vero è non ne puoi fare a meno, vediamo di ragionarci che è la cosa più importante e soprattutto dato che questo è un ambiente di business cerchiamo anche di capire come farci dei soldi perché ragazzi qua se non ci diamo una svegliata a questo paese e questo ve lo dico anche dato che sono uno dei firmatari dell'agenda digitale, se qua non ci diamo una mossa questo paese a furia di pensare analogico si schianta e quindi bisogna anche darsi una mossa e quindi cercare di capire noi con la nostra creatività di italiani, di gente che si è fatta da sola di navigatori, noi navigavamo con le navi e adesso quelli che navigano sono gli americani, ci colonizzano a noi, ecco scusate ma avere un paese dove non c'è una legislazione che ti permette di fare venture capital perché tu non puoi fallire, in America fallisce, non succede niente, qua ti mettono in galera, cioè sono questi i temi più che pensare se bruciarci o almeno il cervello col telefonino, ma magari, cioè questo non è il problema, il problema vero è come cadarci nell'ecosistema economico e riuscire a essere produttivi, scusate. No, 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 è ampiamente legittima, ha qualche altra domanda? Chi ha fatto un C? Chi ha fatto il gesto lo rifaccia così lo vediamo? Chi è che ha detto che ha fatto il gesto? Ah ecco, e dillo, prego, se non lei non ti ha visto, non ti ho visto anch'io, ok, raccogliamo questa altra domanda, nel frattempo una parte di risposta, si è dipendenti per ciò che ci dà piacere, cioè tutte le dipendenze sono allocate nel nostro cervello e tendiamo a essere dipendenti di ciò che realmente ci fa godere, detto questo dico tutto, cioè nel senso che siamo dipendenti di un cellulare che ci serve moltissimo, cellulare ma anche del frigorifero alla fine dei conti, cioè se spenge sono cavoli, no? Detto questo, infatti la vera evoluzione dovrebbe comportare, saper fare i backup, saper poter gestire la propria vita senza, questo è l'elemento, saper contemplare la capacità di risposta della tua dimensione vitale a tutti questi deficit che possono capitare in qualsiasi momento, compreso il blackout della metropolitana, imparare a prendere gli autobus che molti non sanno prendere perché si affidano solo alla metropolitana, chiusa la parentesi. La mia non era una domanda, era proprio un gesto, quindi era un pollice in su per Michele per quello che ha detto, è anche un saluto, visto che ci eravamo twittati, allora sono qua, ciao Michele. Si è sottolineato, perfetto. Qualc'altro intervento o domande? Io volevo sapere se abbiamo dei dati, nel senso quante persone utilizzano sistemi di geolocalizzazione, quindi Foursquare, Facebook, per capire di cosa stiamo parlando, se siamo noi o c'è qualcun altro. Io non ho questi dati, forse Michele o Buaretto, forse c'è un microfono. Allora, di dati precisissimi non ce li ho in questo momento, ci sono delle prime rilevazioni su Foursquare dell'anno scorso che davano comunque meno di 100.000 persone, quindi come diceva prima Marco, ce la stiamo cantando tra di noi. Ovviamente prendiamola più in senso lato. Se guardiamo quante persone hanno uno smartphone in Italia, parliamo comunque del 35% dei device cellulari che sono smartphone. Di quanti scaricano le app è un dato minore e di quanti scaricano la geolocalizzazione bisognerebbe arrivare a questo. La vera tematica sostanzialmente, secondo me, è vero guardare la numerica in senso stretto, che è assolutamente importante. Ovviamente guardiamola in ottica proiettiva e soprattutto se anche fossero in pochi, togliamoci dalla testa l'idea che uno strumento ha senso solo se c'è la massa. Se sono pochi che ce l'hanno, usiamolo profilando su chi sono questi che lo utilizzano. Forse ci potrebbe essere dell'opportunità, perché se andiamo per esempio a capire che chi usa la geolocalizzazione sono quelli che noi nell'osservatore multicanalitale chiamiamo clienti reloaded, che sono più altospendenti, titolo di studio più elevato e alto tasso di scolarità e di reddito, forse abbiamo anche un modo per trovare certe persone in cui forse è difficile trovarle con altri mezzi di massa. Volevo anche io aggiungere, sono otto, cioè al forum della comunicazione digitale, che è il posto dove vengono tutti gli impallati di internet, che stamattina qua c'era tutta gente che lavora in agenzie, in società di internet, tutte le migliori aziende di internet italiane o americane e straniere, che sono in Italia, qui, Yahoo, Google, Facebook, cioè nomi che stanno qui, sono otto. Le otto amici di Marco Camisani e Cazzolari che hanno fatto il check in. Su un evento dove fuori c'era la coda stamattina ci fa capire che il punto, a mio parere, è che i dati non li troverai mai. O meglio troverai un sacco di prospect di mercato che ti dico in questa roba cuberà un sacco di miliardi nel 2012, perché saranno tutte robe che puoi felicemente passare del tempo, io non te lo consiglio. La domanda vera secondo me è a cosa serve? Che poi è la cosa che diceva anche il nostro amico sul tema della... C'è un valore riconosciuto da non solo chi lo fa ma anche chi lo legge? Se sì, parliamo, ne discutiamo, ne analizziamo, lo usiamo, il loro osservatorio per capire il fenomeno, ma se non serve a niente, cioè è un gioco, come io sono molto d'accordo con Marco, è un simpatico gioco per farsi un po' gli affari degli altri, di quelli che hanno la voglia di dire dove sono, così uno dice... Ok, è un gioco, rimane tale. Io non l'ho ancora capito, però se serve, cioè c'è un senso, come dice lui, un senso sociale, se le persone trovano che attraverso quel gioco lì si divertono di più, ha un senso per loro, poche o tante, ha valore. Allora, va detta una cosa, nonostante lei le sia un amico, nonostante sia un amico, va detta una cosa che non si riesce proprio a capire. Levi Strauss ce l'ha spiegato qualche tempo fa, per forse è sfuggito a molti, no? Nelle fasi di transizione, Marco, qua andiamo seri, no? Perché ironizzate troppo facilmente su cose che non vengono... No, 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 io sono durissimo. Allora, è incredibile che non si capisca che la questione che va messa veramente in asset è il gioco. Noi siamo andati a una transizione in cui i modelli produttivi, ma compresi quelli del web, non funzionano. Cioè, il sistema della borsa negli Stati Uniti per cui vanno a contare 50 dollari a contatto per Facebook per poterlo commisurare alla borsa, da noi è fantascienza. Non hanno senso manco là, pensa se hanno senso qua. Allora, tutto questo sistema di riconoscimento del valore è insensato. Allora, le poche filiere, i pochi sistemi che hanno prodotto la ricchezza sono quelli del manifatturiero. E gran parte di voi non ve ne occupate, credo, no? Vi occupate di informazione, comunicazione. Allora, noi siamo in una fase in cui tutto quello di cui stiamo trattando, dalla geolocalizzazione in giù, perché la geolocalizzazione è una delle forme, diciamo, più alte, più interessanti, più cool di cui stiamo trattando. Siamo d'accordo su questo? Michele? Ok, perfetto. No, siamo d'accordo. Allora, tutto quanto a questa pratica comporta il fatto che qualcuno deve giocare per capire cosa funziona e cosa no. Levi-Strauss parlava del bricolage antropologico. Nelle fasi di transizione una componente di generazione deve giocare, deve mettere in gioco dei comportamenti creativi per poter capire se da quella parte lì si va, se quel tipo di gesto, quel tipo di pratica, quel tipo di percorso, quella cosa da intraprendere, porterà dei frutti oppure no. Anche se non sai chiaramente a che cosa ti serva i benedetti brammatici. E questo è l'elemento strategico. Siamo in quella fase là, che si è aperta 15 anni fa, perché è vero, il futuro è già qui, è già passato di qui, solo che è mal distribuito a tal punto per cui molti manco se ne sono resi conto. La questione è veramente molto seria. Essere consapevole delle dinamiche del gioco come elemento di scambio sociale è uno degli elementi strutturali, delle strategie di un sistema paese. Gli americani, gli statunitensi, questa cosa l'hanno capita perché la nuova frontiera ce l'hanno scritta dentro il codice genetico. Noi abbiamo nel codice genetico, nel DNA di questo popolo mediterraneo, situato così come è situato, altro tipo di informazioni, altre predisposizioni. E su quelle che dovremmo saper lavorare. E io rilancierei proprio la domanda a Marco Camisani per cancelare perché l'ha fatta cadere. Io non amo quando vengono fatte cadere le domande, perché lo considero un atto di sufficienza. Del valorizzare il territorio non è la promozione turistica, è ben altro. Cos'è per te valorizzare il territorio che forse è la vera misura per produrre ricchezza in un paese come l'Italia? Cosa può portare attraverso la geolocalizzazione? Secondo la tua previsione, secondo la tua esperienza di prammatico che operando sul web ha messo in essere delle buone avventure? Non ho la risposta, ho esattamente la tua domanda perché non so come si possa fare con la geolocalizzazione, so come si può fare a valorizzare il territorio come l'Italia attraverso il digitale e si può fare attraverso la diffusione della connettività, della banda larga, della cultura, perché ci vuole anche la cultura. Inoltre è inutile che io porti banda larga al sud quando la metà, e lo so, è una questione di nord-sud, non usa inter, ma non solo al sud, la metà degli italiani non utilizza inter, non sa cosa sia, non gliene frega nulla e non pensa che serva a qualcosa e lo trova pure pericoloso. Allora bisogna lavorare per valorizzare il territorio e fare ad esempio, non so, io ho due persone che lavorano come programmatori per la mia società dal sud per esempio, in paesini microscopici dove fanno fatica a collettersi, vivono in un mondo separato da quello che è ovviamente la realtà del paese perché vengono pagati attraverso un bonifico bancario che arriva da un'altra parte e derogano un servizio che passa attraverso la rete, il territorio quindi è solamente un luogo piacevole dove vivere, che è meglio vivere là che a Milano, punto. Questo è l'unico modo, bisognerebbe portare tanta connettività e tanta cultura, allora secondo me l'Italia potrebbe riprendere. La domanda è, quando dici le parole a cultura cosa intendi? Un contenuto? Nel senso digitale, nel senso di cultura non analogia, cultura nella conoscenza di questi mezzi, la conoscenza di opportunità e non quella che invece la non cultura, l'ignoranza quindi, che arriva e che viene trasmessa attraverso quel 50% di italiani che non si informa attraverso il digitale, conosce il digitale. C'è scritto che Facebook diffonde la sifilide, vi porto i titoli, che per colpa di Facebook, è ovvio che questi poverini... Entriamo nel merito di queste affermazioni, allora se la cultura non è solo un contenuto ma, insisto io, è un comportamento, quindi un valore d'uso, è interessante vedere come ad esempio in Toscana l'utilizzo di Foursquare è stato proprio referenziato per progetti di promozioni turistiche, che è un modo per far capire dove si aggancia una filiera del valore. Mi interessava andare un pochino oltre cose che io considero anche in parte, non diciamo scontate, mi interessava capire come al di là della promozione turistica, io l'esperienza del lavoro fatto, che ho visto, che ho seguito da vicino in Toscana, dove hanno fatto un lavoro attraverso Foursquare, secondo me è emblematico, oppure mi interessa un applicativo come i parte, non so se c'è qualcuno in sala, che sta realizzando una piattaforma georeferenziata per poter rilevare le criticità dei territori, dalle buche nelle strade a un toto ed altre cose di questo tipo, che secondo me è un altro esempio molto preciso. C'era una battuta... Però aspetta, sentiamo una domanda prima. Io faccio parte del settore della comunicazione, quindi c'è una cosa che non funziona, se quelli che si occupano di comunicazione sono sempre qua, quelli che effettivamente fanno business non ne capiscono un cazzo perché non vengono qua, oppure non riusciamo noi a fargli sapere che queste cose servono. Io mi ricordo allo IAB che si parlava di questo problema, oggi fondamentalmente al forum, chiacchierando un po' con le persone, non ho trovato aziende che cercavano di trovare uno sbocco diverso attraverso questo. Questa è la cosa strana. E così non si fa business, non è che sia open source e neanche che non lo sia. Banalmente, se faccio un esempio diverso, Google vende le AdWords, ma allo stesso tempo fa la formazione delle AdWords, quindi riesce a venderle anche a persone che non hanno bisogno di avere un'azienda dietro che gli aiuta a far comunicazione. Quindi il concetto è proprio, mi appoggio proprio a quello che ha detto lui, cioè la cultura del business in questo settore, manca. Io non lo vedo un problema, io insegno all'università e ai ragazzi, che poverini, non vorrei essere troppani in questo periodo, vi faccio vedere una slide dove ci sono degli squaletti che guardano il film del Titanic che sta crollando e che dicono, ah che bello, amo i lieto fine, gli squali, cioè un modo per far vedere la realtà invertita. Allora io penso che in un momento così, in fondo, da una parte, insisto, spiego alle aziende cosa devono fare, lo faccio nei seminari, nei convegni, ovunque ne abbia occasione, ma in fondo al massimo ci sarà un ricambio e questa crisi lo fa sentire, io ho tanti colleghi che hanno aziende che ragionano e vivono nel modo vecchio e che stanno male, sono in crisi, vivono la crisi, come va? Eh purtroppo lo sai, eccetera. Altri che hanno rivoluzionato il loro modo di fare, di gestire l'azienda, usano il tax manager per i dipendenti che mandano a casa loro, li usano in telelavoro, internamente migliorano le procedure, utilizzano il digitale per ogni banalità, eccetera, eccetera, sono organizzati attraverso il digitale, sfruttano le opportunità del digitale, stando benissimo e crescono. Ecco, e quindi io in fondo non ho così tanta, è un momento in cui un bel ricambino dove in fondo quelli che non sono capaci muoiono e che quelli che invece riescono a sfruttare le opportunità del digitale vincono, non mi dà così tanto fastidio. No, ma è chiaro. Cioè, prego. Io lavoro in una banca, quindi diciamo è un'azienda molto tradizionale, no? Unicredit ha scoperto, diciamo è entrata nel mondo digitale già da un pezzo e sta investendo in maniera significativa. Io credo che la cosa più bella che stiamo vivendo noi in Unicredit è che il digitale, che prima veniva visto per un problema culturale pericoloso, stanno scoprendo, si sta scoprendo che il digitale non è una cosa diversa dal mondo del business reale, ma è un volano straordinario che aiuta l'azienda. È un problema culturale, io lo vedo, io sto dentro un'azienda, vedo altre aziende, oggi in Italia siamo ancora un po' lontani da questo, però credo che in questo momento di grande crisi ci sia forse un'opportunità maggiore per portare questi temi all'attenzione delle imprese, perché veramente il digitale oggi rappresenta uno sbocco straordinario di potenziale, potenziale di business poi, che poi può sfociare nel social ludico, ma comunque è aggregante di persone e persone che rappresentano un mercato. Aspetta che c'è un altro intervento, poi magari ritorniamo dopo. Puoi fare una battuta veloce, scusa, passa il microfono a lui che forse è una battuta. No, no, aziende così grandi o anche un po' più piccole, arrivano a comprendere perché magari hanno un gruppo di persone che si occupano effettivamente di marketing, ma in molte aziende italiane il marketing è una cosa che fa parte del gioco, ogni tanto ci si gioca. Vi rispondo da direttore di Provisità Italia che è la rivista che è leader in questo settore, nel senso che la prima cosa che abbiamo fatto come nuova linea editoriale è proprio cercare di aiutare le aziende a capire questo, perché il problema è vero, tu hai perfettamente ragione, ma ti manca un aspetto, è che loro non solo hanno paura del digitale, ma proprio non lo vogliono e ti spiego perché, perché in certi casi, sicuramente in Unicredit mi capiscono, c'è un ribaltamento del potere all'interno dell'azienda, cioè ricordiamoci che le aziende non sono né degli enti di beneficenza né degli organismi che si evolvono spontaneamente, ma si evolvono solo sotto stress, o perché sono in crisi o perché c'è una volontà forte dell'altro, quindi il punto è convincere gli amministratori delegati, cioè i decisori, che c'è un'opportunità, ma aiutandoli nel contempo a mantenere il potere. Questo è il vero problema oggi, che il digitale sposta all'asse di potere e soprattutto ti rende pubblico, quindi tu non puoi più nasconderti se fai un errore, e che sembra una cosa banale, ma non lo è, perché ci sono molte grosse aziende, ma anche molte piccole aziende padronali, che non riescono a tollerare un cambiamento di questo paradigma. Finish. Volevo fare una battuta. Io non sono d'accordo su questo aspetto, perché secondo me oggi il fatto che tutti hanno Facebook, bene o male tutti ce l'hanno Facebook, è difficile comunque trovare chi non ce l'ha. Lascia stare cosa è Facebook, so che tu non stai parlando di quello. Parli di progetti molto più importanti, molto più complessi. Ok, giusto per... Secondo me dà una sensibilità, che guarda, 5 anni fa, 10 anni fa, e tu lo sai meglio di me, sicuramente l'avrai vissuto anche sulla tua pelle, non c'era, cioè veramente a quel tempo, 5-10 anni fa, anche 3 anni fa, si era delle tribù di indiani che parlavano di robe che erano veramente fuori dagli investimenti, business plan, le allocazioni di budget delle aziende. Oggi non solo la grande impresa, però anche la piccola impresa, a mio parere, che sta sul territorio e ha all'interno persone e tutti conoscono la posta elettronica, non è vero che siamo così digitalmente indietro, secondo me. Tutti capiscono che internet può essere un'opportunità. Sai qual è la difficoltà? Che hanno paura, cioè non sanno come. Una rivista che spiega come fare le cose oggi è molto più potente di una rivista fatta 5 anni fa, rivista per dire... Una considerazione prima di passare il microfono a te per un intervento, che è fondamentale. Parliamo di business, ma sappiamo perfettamente chi fa il business, vede abbattuto il proprio volume di affari del 30 al 50% mediamente, rischiano proprio di non sopravvivere a questa fase di crisi di transizione, che è una crisi gravissima che riguarda i modelli, non è una crisi finanziaria, è una crisi proprio di modelli generali. Gran parte di chi dice che fa business, questo business non lo fa, il suo problema è sopravvivere a questa fase di transizione, che si spera possa in qualche modo superare il 2012, perché prima del 2012 non se ne esce. E sappiamo, ed è il motivo per cui quello di cui stiamo trattando è interessante, che è un modo per affrontare questa crisi di transizione e sopravvivere mantenendo alto il proprio livello di reputazione, non licenziare i propri operai, non fare troppi debiti in banca, non sputtanarsi del tutto, non bruciarsi, sopravvivere. È qui che l'elemento web 2.0 compresa la geolocalizzazione può avere senso, perché in che senso? Io insisto, ancorarsi ai territori, stabilire il rapporto con ciò che in qualche modo può proteggere il tuo brand. Quando si parla di reputation capital, di brand reputazionali, di lavoro reputazionale sul proprio brand, è molto dentro questa sfera del ragionamento, qualcosa che non produce business. Quando si parla di social innovation non si parla di buoni sentimenti, si parla di poter mantenere la propria posizione con un asset di mercato, dove tu vieni riconosciuto con un valore, sperando di poter riprendere che il volano si rimetta in moto, che qualche modo si sblocchino delle ruggini, perché vi sono in questo Paese, l'abbiamo detto un tot di volte, è inutile ripeterlo, delle ruggini che impediscono a questo Paese di potersi liberare verso le soluzioni dell'innovazione digitale a tutti gli effetti. Poi ritorniamo alla fine e andiamo a chiudere il tuo intervento. Sono Roberta Marchesi, sono un account director di advertising. Secondo me noi dobbiamo evitare un errore che è quello di sovrapporre il concetto di geolocalizzazione a Foursquare, perché esistono come diceva Boaretto altre forme che sono anche più intelligenti, scusate se lo dico, nel senso che Foursquare lo stiamo usando tutti per giocare in questo momento, qualcuno per avere lo sconto all'aperitivo Aldiana forse, ma non credo siano molti. Però ad esempio io credo molto nella realtà aumentata, che è una cosa che non è un gioco, ma è uno strumento che permette di dare delle informazioni che possono anche essere emozionali, oppure anche estremamente tecniche, non soltanto legate al turismo, ma legate per esempio ai punti vendita. Io posso entrare, che ne so, da Gucci e avere un simbolo che io inquadro e mi appaiono delle cose fisicamente, cioè in 3D, davanti a me. È uno strumento che secondo me le aziende conoscono molto poco, ma che è molto magico. Io invito tutti a fare una prova di realtà aumentata, veramente si crea in mano un oggetto ed è una cosa estremamente coinvolgente, diciamo che è più difficile da spiegare che da fruire. Secondo me noi, io che lavoro per le agenzie e tutti noi dobbiamo come al solito farci un quattro per spiegare alle aziende che geolocalizzare non significa soltanto mettere una freccetta su Foursquare, ma ci sono degli altri modi che sono molto più ricchi e danno molta più esperienza. Infatti questo riferimento al magico, a qualcosa che comunque produce stupore, è iscritto dentro l'avanzamento tecnologico, tutto quanto produce uno spiazzamento che da alcuni viene vissuto in modo positivo, noi crediamo in questo spiazzamento ci sia l'opportunità per rilanciare, per reinventare qualcosa e produrre anche nuove opportunità di mercati, per altri è proprio un disagio. Il fatto di sentirsi inadeguati per molti, quegli intelligentoni, intellettuali, decisori di qui sopra, è veramente un problema. Quella classe dirigente, qui faceva riferimento Michele Ficara-Manganelli prima, non sopporta l'idea di sentirsi inadeguata. Noi ci troviamo, una delle chance che abbiamo è quello di creare, ed è un po' il lavoro che alcuni di noi fanno, ad esempio con Urban Experience, e di produrre delle azioni che possono esplicitare e rendere evidenti come funzionano queste cose. Utilizzare le applicazioni con le mappe interattive dove vedi la tua posizione già riferenziata, usare i mob tag o QR code o altre tag di realtà aumentata, usare le applicazioni di realtà aumentata per iPhone dove inquadrando riesci a farle vedere. L'unico modo per farle capire è fare esperienza, non c'è altro modo. Questo è l'elemento e questo che secondo me manca a tutto questo mondo di cui noi siamo espressione è che fa i convegni, fa dei workshop e dovremmo produrre di più azioni. Credo che il vero modo per interpretare la geolocalizzazione non è solo quella di taggarsi attraverso le mappe ma di agire nel territorio. Qui entrano in campo le competenze che fanno parte del mio background, è quello elemento di happening, produrre delle azioni che non sono spettacoli, sia chiaro. Penso che l'Expo 2015 possa essere una delle chance. Giocare la città, dimostrare di come il gioco della città possa comportare la reinvenzione di uno spazio pubblico, antropizzare lo spazio tempo del web, uso questo termine perché è quello preciso, è come un'altra si antropizzavano territori o negli altipiani o si andava anche in altri continenti per cercare materie prime. Antropizzare lo spazio web creando delle forme di relazione che non sono scontate, non basta un protocollo tecnologico per creare, deve esserci qualcuno che giocando quel protocollo tecnologico produca delle evidenze. Dice ragazzi questa cosa funziona e è anche molto fica, perché non ci inventiamo un modello di business intorno a questa cosa, ma quel modello di business lo puoi fare solo se hai prodotto quella pratica ludico partecipativa che ha testato il sistema. C'era una battuta di Fabio? Hai il microfono? E andiamo a chiusura, questo è l'ultimo due minuti. Volevo dire solo una cosa, probabilmente molte volte c'è una grande critica verso il digitale perché non lo si capisce fino in fondo, perché viene presentato come una implementazione della realtà e non come invece un qualche cosa che va pensato, ragionato dalla base, all'origine. Questo lavoro che ho presentato prima, quello che volevo dire è che non va vista questa cosa semplicemente come un qualcosa in più, ma ripartire da zero per fare un'esperienza da zero della realtà e su quella applicare la tecnologia, su quella andare ad applicare il digitale. Allora vuol dire veramente quello che diceva Marco e quello che hanno detto tutti, ripartire, riportando a zero, ricaricare veramente le proprie potenzialità con uno strumento diverso e non semplicemente aggiungere un altro sopra a qualche cosa che comunque non funziona più. Bene, qui concludiamo il prossimo anno.